Buongiorno Telenicosiani! Oggi è mercoledì 10 giugno 2020, sono Maria Teresa e vi auguro una buona giornata con l'almanacco di Telenicosia. Sono da poco passate le 7, il sole è sorto alle ore 5 e 34 e tramonterà alle ore 20 e 45. È il 162esimo giorno del calendario gregoriano, essendo questo un anno bisestile, quindi mancano 204 giorni alla fine del 2020. Il santo venerato oggi è San Bogumilo di Genesno, vescovo eremita. Cos'è accaduto il 10 giugno? Nel 1692, processo alle streghe di Salem, Bridget Bishop veniva impiccata come strega. Nel 1914 veniva fondato il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 Giacomo Matteotti veniva rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. Nel 1935 a New York veniva fondata l'associazione Alcolisti Anonimi. Nel 2003 veniva alloggiata la navicella Spirit ad opera della NASA. Questo segnava l'inizio della Mars Exploration Rover. Vi lascio adesso le previsioni meteorologiche e se volate ci risentiamo domani sempre su Radio Telenicosia e sempre le ore 7 in punto. Ciao a tutti!